L'Aquila Contemporanea Plurale è la prima edizione di un festival di cultura contemporanea che nasce dalla sinergia di sei importanti enti musicali e dell'alta formazione che hanno sede all'Aquila e che vogliono insieme svolgere un ruolo importante per la ricostruzione della città. Questo è l'intento con cui l'Associazione I Solisti Aquilani, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, la Società Aquilana dei Concerti Baratelli, l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio Casella e l'Università dell'Aquila nel settimo anniversario del sisma hanno dato vita alla rete interdisciplinare Contemporanea Plurale è l'Aquila. Finalmente riprendiamo un po' quelle che sono state le tradizioni di questa città di quando cioè già dagli anni 60 le maggiori istituzioni culturali e di alta formazione si mettono intorno a un tavolo per organizzare delle manifestazioni che sono poi passate alla storia. Il Festival, prima espressione del lavoro della rete, prevede concerti, incontri, installazioni e performance e fa convergere sulla città la presenza di numerosi musicisti, artisti, intellettuali della scena artistica internazionale. Per cinque giorni, dal 4 giugno, l'Aquila si presenta come un centro di cultura contemporanea e innovazione artistica. E subito iniziano i concerti, due al giorno, tranne che la domenica 5 è l'ultimo giorno che c'è solo un concerto, ma due al giorno, pomeriggio e sera, con la partecipazione di importantissimi personaggi, compositori ma anche effettivamente allo stesso tempo responsabili della cultura del nostro tempo. Perché noi cominciamo con Ivan Fedele, il 4 pomeriggio, del quale seguiamo una prima italiana e quindi per noi è un titolo d'orgoglio con la nostra sinfonica abruzzese. Ivan Fedele non soltanto è uno dei più premiati, scusate, dei compositori maggiormente premiati oggi, ma è anche direttore della Biennale Musica di Venezia. Verrà Matteo D'Amico, direttore artistico della Filarmonica Romana, verrà Michele Dalongaro, presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, avremo un collegamento con Nicola Sani, sovrintendente del Teatro di Bologna e poi saranno presenti gruppi e musicisti tra i più rappresentativi nell'ambito della musica d'oggi.